sai è facile essere una femmina bastano un paio di tacchi ai spillo e abiti suncinti ma per essere una donna ti devi vestire il cervello di carattere personalità e coraggio è matematico sarai sempre il versaglio di qualcuno che avrebbe voluto somigliarti un po' provando a fare quello che hai fatto tu ma senza riuscirci puoi fare 99 cose per una persona ma ti assicuro che l'unica cosa che ricorderà sarà quella che non hai fatto le persone si possono nascondere dietro facili sorrisi e belle parole ma prima o poi si mostrano per quello che realmente sono ricordate una cosa se la mia sofferenza è il vostro divertimento avete un problema molto serio se ti piace just funny wall mettici un like iscriviti al canale grazie mille un abbraccio forte pensa come ti hanno trattato per ricordare dove non devi tornare come una persona tossica si lamenta di tutto fa sempre vittima è invidiosa e gelosa non fa nulla per migliorare parla solo dei suoi problemi è negativa critica costantemente c'è gente che scrive tante cose belle su facebook peccato però che non vive come scrive ma esistono davvero quelle persone che quando dici di avere bisogno escono di casa e vengono da te la vita va goduta perché non sai mai quello che succede domani posso dirti una cosa quando un bambino vi regala un suo disegno fatelo un tesoro perché vi sta mostrando la sua anima mi capisca io non sono come un mondo comune io ho la mia passia io vivo in un'altra dimensione e non ho tempo per le cose che non hanno anima sai se avessi avuto la maturità che oggi non avrei fatto tanti errori però sai se non avessi fatto tanti errori non avresti la maturità che hai oggi la forza di un vero uomo non risiede nella potenza fisica ma nella delicatezza con la quale entra nel cuore di una donna e io ti auguro qualcosa di simile al tramonto qualcosa che pur non cambiando mai riesca a stupirti sempre dove l'inoranza con l'arroganza urla il silenzio con l'eleganza insedia sai la menzonia disse alla verità lo sai che ti porterò negli abissi più profondi la verità rispose non importa lo sai già che prima o poi verrò a galla ricordate una cosa la bellezza non è nel viso dove molti la cercano è nel cuore dove pochi sanno arrivare più sono volte le teste più sono lunghi le lingue sai alla fine passa per cattivo chi ha sopportato tanto ed ha finito la pazienza non conta quello che gli altri pensano di te conta quello che sai di essere la sincerità è una sedia scomoda sulla quale pochi sono disposti a sedersi sai la cosa migliore che possa capitarti è avere qualcuno al tuo fianco che non smette mai di cercarti nemmeno quando ti perdi nei tuoi silenzi lo so che è difficile però si esistono eh tu non hai paura che la gente ti critichi ho paura che la lavatrice si rompa il resto non mi tocca non sempre l'apparenza inganna a volte le persone fanno schifo proprio come sembra io sempre dico una cosa sorridi sempre nonostante tutto ricorda che il sorriso allontana la tristezza avvicina la soia espini il dolore e accende la speranza avete visto che immagine stupenda utilizzate un libro per proteggervi dall'ignoranza e spesso basta guardare gli altri per essere orgogliosi di se stessi goditi le piccole cose della vita perché un giorno guarderai indietro e ti renderai conto che erano grandi cose alla fine ho capito che è meglio essere me stesso con mille difetti che seguire la massa dei finti perfetti se hai perso qualcosa o qualcuno ma hai ritrovato te stesso allora sicuramente hai vinto fidati di me sai cosa si fa quando non se ne può più? si cambia alla fine dico una cosa un pizzicchino di fortuna a tutti nella vita sempre ci vuole grazie mille per restare con just funny ci vediamo alla prossima con un nuovo video grazie restate bene grazie